Allora, povera patria è un triunvirato con Aldo Cazzullo e Alessandro Giuli, come avete capito dalla conferenza stampa abbiamo un popolare che è Cazzullo e il populista invece che è Giuli e cercheremo di raccontare non il punto di vista mainstream e basta ma anche l'alternativo, quindi dare approfondimenti per quanto riguarda la politica ma soprattutto per quanto riguarda l'economia, ecco le notizie che non sono nell'agenda setting di tutti i telegiornali o di tutti i programmi ma che vanno anche oltre, quindi approfondimenti importanti. Il primo boss, il primo pentito della mafia nigeriana, sì, è un'inchiesta, abbiamo questa nostra inviata che in realtà segue il fenomeno, adesso tutti ne parlano, in realtà noi sono un paio d'anni che seguiamo questo filone, un filone drammatico, molto presente che si sta radicalizzando in Italia e questa intervista è veramente da vedere, appunto venerdì in seconda sera a Sturre 2 ci sarà la versione integrale. Beh però come prescindere da Salvini, voglio dire, noi faremo le altre domande a Salvini, non solo quelle canoniche e poi abbiamo Paolo Savona, un ministro che ha parlato poco e che invece è molto importante soprattutto per capire qual è la tendenza economica italiana ed europea. Io su questo ho una posizione ancillare, come ha detto il direttore, e io amo armonizzare i palinsesti, quindi io sono qua per fare un buon prodotto, purtroppo alle volte non riusciamo a raggiungere così tante persone, però adesso con Rayplay, con Facebook, insomma arriviamo anche oltre l'audience, perché diciamolo che purtroppo la televisione generalista alle volte è vista anche da un pubblico adulto, invece noi andiamo, come si dice, molto forti anche sui social e quindi raggiungiamo un'altra fetta di pubblico. Guarda noi andremo avanti fino a luglio, quindi una ventina, sì sì, eravamo previsti in palinsesto con l'altra trasmissione, questa ci saremo comunque sempre. Grazie.